Vediamo i titoli del nostro telegiornale. Covid, altre 10 vittime nelle Marche, tra cui due anziani della provincia di Pesaro Urbino, più di 300 i contagi nella regione, oltre 100 i posti liberi in terapia intensiva. Il presidente Francesco Acquaroli spera nel ritorno in zona gialla. Guarito dal coronavirus, dona il plasma iperimmune per la seconda volta. Parla su Fano TV Fabio Marchionni, impiegato pesarese e campione di anticorpi. A Fano continua l'ondata di furti nei negozi della città. Scendono in campo le associazioni di categoria, mentre Ristori Italia annuncia siamo pronti alle ronde notturne. Anticipo dei saldi al 16 gennaio e attività promozionale. Già dal primo dicembre, l'ipotesi annunciata dall'assessore Carloni per aiutare il commercio marchigiano. Un albero per ogni neonato, la città di Fano respire, guarda al futuro. Più di 400 le nuove piante in un'area boschiva di Ponte Metauro. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Sono ore di apprensione, persisto. Marinelli, 78 anni, di Sant'Angelo Invado, scomparso dal quartiere di Muraglia a Pesaro. Intorno a mezzogiorno era stato accompagnato dalla moglie da un vicino di casa all'ospedale di Muraglia, perché doveva sottoporsi ad una visita oncologica. Purtroppo i due, a causa dell'enorme anticontagio, non sono potuti entrare nel nosocome ed hanno lasciato l'anziano alla porta di ingresso. Non vedendolo uscire, hanno lanciato l'allarme anche le forze dell'ordine. Ai carabinieri, che lo hanno raggiunto telefonicamente, pare che il 78enne abbia risposto che stava portando la macchina dal meccanico e dunque potrebbe avere dei problemi di memoria. Al momento della scomparsa indossava un paio di jeans e un giubbotto di pelle, ci ha detto un testimone, una vicina di casa. Anche la figlia Marinella, partita dalla Svizzera per dare un supporto nelle ricerche, ha lanciato un appello sui social, chiedendo a chiunque lo avvistasse di contattare la polizia o il numero di telefono che vedete in questo cartello. Poco fa ci hanno fatto sapere che le ricerche della squadra mobile stanno proseguendo in zona Mombaroccio, ultima posizione della cella telefonica. L'uomo potrebbe aver preso un mezzo di trasporto pubblico locale. E lo avete sentito dai titoli, il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, si aspetta un ritorno della regione in zona gialla. L'indice di contagio RT è calato, ha detto, mentre sul Natale ci aspettano ancora regole ferre. L'indice RT è calato, l'ultimo valore è stato dell'1,17. Significa che c'è una tendenza che avevamo preannunciato da due settimane di una curva epidemiologica che stava scendendo. Lo ha riferito il presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli, oggi ad Ancona, in occasione della seduta dell'Assemblea legislativa. Mi aspetto, ha proseguito, in un ritorno in zona gialla che possa dare un respiro a tutte le attività che sono state penalizzate e che spero possano riaprire. Acquaroli ha poi ribadito la necessità di una maggiore chiarezza e coinvolgimento da parte del governo. E sull'andamento del contagio ha aggiunto, la battaglia quotidiana ci deve vedere impegnati su più fronti. Il governatore ha parlato anche del Natale, la proposta a migliore è tenere regole ferre, ha dichiarato, ma le chiusure sono un danno importante, rappresentano l'altra faccia della pericolosità del virus, sociosanitaria e socioeconomica. Il problema, ha rimarcato, non sono né i ristoranti né le piste da sci, ma i comportamenti affiancati a queste attività. Non credo ci si contagi sciando, mangiando, ma ci si può contagiare prima o dopo. Se si rispettano le procedure si può cercare di abbattere il contagio. Questo, ha precisato, non significa che si può fare tutto, ma nel rispetto delle norme anti-covid si possono tenere aperti i locali, evitando un dramma che potrebbe colpire tutte le attività produttive. Infine, il Presidente ha detto che farebbe il vaccino una volta disponibile, perché è considerato un elemento importante per poter cercare di tornare alla normalità. E sono dieci i decessi legati al coronavirus registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore. Si tratta di sei uomini e quattro donne. Tra le vittime ci sono anche un'anziana fanesi di 93 anni e una urbinate di 97. Due persone, un sessantenne di Ascoli Piceno e una donna di Ancona di 77 anni, non avevano patologie pregresse. I positivi rilevati nell'ultima giornata sono 351, pari al 28,7% dei 1.220 tamponi testati nel percorso nuove diagnosi. Secondo i dati del Servizio Sanità della Regione, il maggior numero di casi nella provincia di Macerata con 92, seguita da Ancona con 87, Pesero Urbino 83, Ascoli Piceno 53, fermo con 13, oltre a 23 da fuori regione. Negli ospedali ci sono quattro ricoveri in più per un totale di 644. I pazienti in terapia intensiva sono 89, meno uno rispetto a ieri, mentre in semi-intensiva 137, meno tre. Sono 36 invece i pazienti dimessi. E ad oggi sono 193 i posti in terapia intensiva nelle Marche, nei quali circa 90 occupati. Lo ha riferito l'assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini. Un mese fa ne avevamo 118, ha spiegato. In poco più di un mese sono stati attivati 70-80 posti. L'assessore ha parlato anche di tamponi e della necessità di accelerare. Speriamo di poter concludere in settimana, ho spiegato l'accordo con i medici di famiglia e con le farmacie. Sul fronte USCA, le unità speciali per la continuità assistenziale, Saltamartini ha fatto sapere che sono 32 gli equipaggi rispetto agli iniziali 23. Stiamo cercando di implementarli a concluso con l'assunzione del personale infermieristico che si sta laureando. E adesso vi raccontiamo del gesto di solidarietà di un uomo guarito dal Covid che ha deciso di donare plasma iperimmune per aiutare chi ancora sta lottando contro il coronavirus. Angelica Panzieri ha intervistato Fabio Marchionni che oggi ha fatto la sua seconda donazione all'ospedale di Pesaro. Si era ammalato di Covid il 18 marzo scorso. Oggi Fabio Marchionni, 53 anni, impiegato di Pesaro, ufficialmente guarito dalla malattia, ha deciso di donare il suo plasma iperimmune per gli altri. Lo ha fatto all'ospedale San Salvatore di Pesaro per la seconda volta in attesa del vaccino per combattere il virus. Infatti la plasmaterapia si sta rivelando efficace nella cura o quantomeno nell'attenuazione degli effetti virali. Anche se spesso il vero problema risiede nel fatto che i guariti dal coronavirus non sanno a chi rivolgersi per donare. È stato più semplice rispetto ad altre persone perché essendo già donatore dell'Avis ho preso contatto la prima volta con loro e loro dopo mi hanno dato tutti gli appuntamenti e fatto gli accertamenti. In questa seconda fase questo dettaglio era sfuggito ma io non mi sono perso da minimo e ho chiamato io a loro per rifissare un appuntamento e eventualmente ridonare. Una volta che uno prende contatto con l'Avis territoriale fanno tutti gli accertamenti e guardano il grado di resistenza non so come definirlo che hai nel confronto di questa malattia. Questo grado dà la positività o meno al donare perciò è qualcosa che fanno loro chiaramente dopo aver preso contatto. In questo caso il sangue salva la vita perciò io mi sono sentito ulteriormente coinvolto in questa situazione e sono corso, nel vero senso della parola, a donare, a fare questo gesto che invito tutti a seguirmi per chiedere, non costa niente e fa sì che tante persone che fanno male abbiano un conforto a questo punto di vista. Marchionni dai letti dei tanti ospedali che lo hanno ospitato ne ha visti tanti che non ce l'hanno fatta se c'è una cosa che il virus gli ha insegnato è che non bisogna mai dar per scontato nulla. Partendo da Fossombrone, Urbino e poi fui trasferito a Civitanova Marche e per finire la prassi andai anche a Campofilone. Però nella mia esperienza posso dire che questo trascorso mi ha lasciato dentro un qualcosa che mi ha mutato dal punto di vista psicologico. Tant'è che io ogni volta che attualmente vedo una trasmissione, qualcosa che si parla di persone ammalate e mi viene da piangere e la mia emotività è scattata mille perché avendo vista questa situazione dall'interno degli ospedali, cosa che non capita proprio a tutti e non tutti la possono raccontare, io avendo visto tante situazioni particolari ogni volta che ne parlo ancora mi commuovo. Con che approccio quindi è tornato alla vita normale una volta che è guarito? Quali sono le prime cose che ha fatto? Ma purtroppo sembra scontato ma le prime cose che ho fatto è rivedere la mia famiglia, rivedere le cose semplici della vita perché quando stai lontano da casa un mese isolato all'interno di un nosocomio, benché io posso solo dire che nel mio percorso la sanità marchigiana mi ha trattato molto bene, dai medici ai vari responsabili che hanno seguito questa questione perché ho avuto sempre un trattamento ottimo partendo addirittura dal medico di base, il dottor Diotalevi di Fano che è stata la persona che in primis ha individuato questa mia malattia, mi ha mandato subito a fare l'attacco, perciò io so che non tutti la penseranno come è, però io posso dire grazie alla sanità marchigiana. Ancora furti nel centro storico di Fano, le associazioni di categoria lanciano appelli, chiedono un confronto con il comune mentre Ristoritalia si dice pronta a fare le ronde notturne. Sono più di 20 le attività nel mondo dell'oreca ad aver subito furti e danni nel periodo di lockdown, ma in questi ultimi mesi bar, pasticcerie, ristoranti ed esercizi commerciali continuano ad essere presi di mira dai ladri, come nello scorso fine settimana, in particolare nel centro storico di Fano. Tentato furto in un bar di via Garebaldi, dove è stata forzata una finestra e inviale Gramsci in un negozio di elettrodomestici e ricambi. Quando è successo da voi? È successo sabato verso le 8, perché una signora ha visto un uomo con la bicicletta e aveva due sacche nella bicicletta che prima ha cercato di entrare nel cancellone. Poi questi signori che abitano di sopra hanno sentito che è andato nel cancello piccolo che si trova qui di lato, a destra, e ha cominciato a sbatterlo questo cancello. Al che sono usciti da sopra la finestra, lui ha visto ed è andato via. Probabilmente noi pensiamo che sia stato in tutto questo contesto. E qua mi diceva che probabilmente l'assicurazione non vi copre, perché? Perché non è un furto, è solo un atto vandalico. Cioè è un tentato furto. Quest'uomo pare sia stato visto in diversi punti della città, stando le testimonianze che abbiamo raccolto. E mentre le forze dell'ordine continuano ad indagare, le associazioni di categoria ribadiscono la necessità di aumentare i controlli. Conf Commercio, dopo aver stipulato una convenzione con la vigila, rinnova l'invito a non abbassare la guardia. Conf Esercenti invece chiede un confronto con l'amministrazione comunale per mettere in atto un piano di interventi a partire dalla verifica dell'effettivo funzionamento delle telecamere all'immediato ripristino di quelle inattive. Scende in campo anche Ristoritalia che si dice pronta ad organizzare passeggiate notturne. Intanto proseguono le denunce e la conta dei danni da parte dei commercianti. I ladri sono entrati in azione anche in una pasticceria di via Liguria, nel quartiere Poderino e a Borgo Cavour, nella via principale in quelle limitrofe. Diversi i tentativi di effrazione, come in un forno e in un alimentari. Nel primo caso qualcuno ha tentato di entrare da questo portone che dà su via Monaldi, ma il furto è fallito grazie all'intervento di un residente che ha notato il malintenzionato. Nel secondo invece dalla porta di ingresso, dove sono ancora ben riconoscibili i segni di scasso. Sì, hanno provato ma non sono riusciti. Hanno forzato, penso con un piede di porco, non so che cosa, di preciso quale attrezzo. Hanno rovinato l'infisso della porta, però non sono riusciti. Tant'è vero che sono rimasta io bloccata, che non riuscivo ad entrare. Poi piano piano ce l'abbiamo fatta e quello degli infissi me l'ha sistemata. Però hanno rovinato proprio il legno, capito? Ci sono delle telecamere in questa zona? No, qui dove sono io no. Non c'è nessuna telecamera, ce n'ho una io interna, ma con un rilevatore di movimento che serve se per caso entrano. Adesso provvederò da sola, perché tanto qui nella via poi siamo due negozi, siamo in un angoletto così. Quindi chi fa da sé fa per tre. Anticipo dei saldi al 16 gennaio rispetto all'ipotesi del 30 gennaio che circola a livello nazionale e possibilità di alcune vendite promozionali già dal primo dicembre. Sono alcune delle misure che l'assessore regionale alle attività produttive e vicepresidente della regione Mirko Carloni sta valutando per dare sostegno al commercio fortemente colpito dalle restrizioni di movimento. Sugli orari per i negozi Carloni ha sottolineato che non sono le chiusure dei ristoranti alle 18 che fanno migliorare la condizione del rischio del coronavirus. E' stato un accanimento ingiustificato verso quelle attività che si erano dotate di protocolli rispetto delle distanze e quant'altro, ha detto. Non far lavorare ristoranti, bar, gelatterie, pasticcerie ha lamentato e poi vedere nei corsi e sul lungomare la gente che sta affollata. Si chiama Restiamo Abbracciati ed è l'iniziativa lanciata da un negozio fanese di abbigliamento con l'obiettivo di destinare fondi a Marche Nord e all'area Vasta 1. In pochi mesi sono stati raccolti più di 3.000 euro. Il servizio di Letizia Marchionni. Un piccolo gesto pieno di solidarietà, anche se poi i gesti non sono mai piccoli. Così il sindaco di Fano Massimo Seri ha elogiato l'iniziativa presa dalla famiglia Biagiotti, proprietaria del negozio di abbigliamento BIN di Fano, che per testimoniare la sua vicinanza alla sanità duramente messa alla prova durante questo periodo, ha deciso di creare durante il lockdown e con il supporto di Bizzo.it una raccolta fondi denominata Restiamo Abbracciati per sostenere Marche Nord e l'area Vasta 1. In questo caso è un'attività commerciale che grazie all'unione anche del nome del BIN, che è l'incontro di due fratelli, hanno portato a questa iniziativa che ha portato a raccogliere queste somme che vengono ridistribuite al nostro territorio sotto l'aspetto sanitario. Quindi è un bel gesto, una bella iniziativa, un messaggio importante dove si sentiamo sempre più comunità per affrontare questi momenti difficili dove ognuno cerca di fare la propria parte. Grazie al commercio di magliette, le quali al centro riportano la scritta Siamo angeli con un'ala soltanto, possiamo volare solo restando abbracciati ed il logo del negozio, la famiglia di Antonio Biagiotti con i figli Enzo e Benedetta ha totalizzato 3.250 euro, denaro che è stato consegnato ieri pomeriggio al sindaco di Fano Massimo Seri, che provvederà a recapitare 2.100 euro a Marche Nord e di restanti 1.150 euro ad Asur Area Vasta 1. Sono qua per ritirare simbolicamente due assegni che poi sono sostanza da girare all'azienda Marche Nord e all'Area Vasta numero 1, ma sono qua anche per testimoniare e soffermare l'importanza di un'iniziativa come questa che dimostra la sensibilità che c'è in questa città dove ognuno, in base a quello che fa, in base alla propria idea, alla propria creatività, cerca di fare qualcosa per superare e aiutare a superare questo momento difficile di pandemia che colpisce tutti quanti. In questo caso è un'attività. In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, domani si terrà una seduta monotematica del Consiglio Comunale di Fano in diretta streaming per appuntare i riflettori su un fenomeno che non accenna placarsi. Domani ci sarà questo Consiglio monotematico dove parteciperanno oltre dei relatori la dottoressa Montagna, la dottoressa Leonora Casellini, la dottoressa Maura Gaudenzi del Centro Antiviolenza e specialmente le scuole. Abbiamo invitato le scuole a partecipare attivamente a questa giornata per dare anche loro, sensibilizzare ai ragazzi e ai giovani di questo problema e anche vedere di cambiare passo, di cambiare anche mentalità e cultura. Questo Consiglio monotematico si terrà in diretta streaming come tutti i consigli comunali e chi vuole lo può seguire anche sulla pagina Facebook del Comune di Fano. Quindi è una giornata che l'amministrazione vuol dire a tutti non abbassate la guardia su questo problema. Ecco, ringrazio sentitamente a tutti coloro che vorranno partecipare e seguire questo Consiglio monotematico che si svolgerà domani mattina alle ore 10 in seduta streaming. Nell'ambito di queste iniziative il Comune di Fano ha fisso in tutta la città il lavoro grafico realizzato dai ragazzi della quarta B di grafica e comunicazione del Polo 3. La ricerca, spiega la professoressa Paleani, coordinatrice del progetto, parte dalla foto di un bambino del campo di concentramento di Auschwitz che si solleva la camicia mostrando il numero di matricola dell'orrore e creando così un parallelismo con i dati allarmanti e in crescita dei femminicidi nel mondo. Un braccio, una mano aperta che dà voce alle vittime della violenza con uno stop. E Fano ha celebrato la festa degli alberi, piantandone 412, uno per ogni nato nell'ultimo anno. L'iniziativa si è svolta in via dei Tamerici, località Ponte Metauro. Le piante e gli arbusti sono stati donati da Assiam e queste aree boschive e comunali verranno gestite non solo come aree verdi ma anche come serbatoi di biodiversità con interventi ridotti e calendarizzati in modo da non interferire sul ciclo vitale delle piante e degli animali che la frequentano. E con questa notizia chiudiamo qua il nostro telegiornale. Vi ricordo che tra poco va in onda una nuova puntata di Guarda chi c'è, invece quello che vedete in sovrintressione è quello qua, 338 4968 250, il numero di telefono dedicato alle vostre segnalazioni per noi sempre importanti. L'informazione torna domani mattina con la rassegna stampa. Arrivederci. Grazie.